Ma non è mia Ok aspetta che ti droppo anche un'altra cosa Ma non è mia quella Fra ma ti svegli Non ho fatto niente in questa base Ok non mi ha rotto niente Che stupido Fra ma cosa cazzo ho visto Hai quitato anche il ritardo Non hai rotto niente Che deficiente Fra comunque ti vorrei ricordare Che in questa base Io comunque in questa base non ho niente Se no Non ho niente in questa base Ho rotto tutto apposta Non è vuota praticamente Potete supportarci tutti i giorni Sia nel negozio oggetti di battaglia reale Che su quello di salva il mondo Utilizzando il codice Enrique Non dimenticatevi di aggiornarlo Ogni 15 giorni E detto questo buona visione Mattia Entra Cosa devo dire di importante Innanzitutto Innanzitutto non urlare Ma ti rendi conto di quello che hai detto Ti rendi conto di quello che hai detto prima Che hai detto Ma io prima ti sentivo dalle cuffie sue Talmente urlavi Dicevi stronzate Addirittura Perché la 48 Tu mi vuoi dire che non è rara Cos'è che ha detto Ripeti Andiamo a scambiare Ma stai scherzo In base tua In base tua In base tua Va bene Andiamo a scambiare in base tua Ma in quale ora sei rimasto Oh hai paura Eh vabbè ha paura Ma stai scherzando Ma questo è sicuro che è un brutto sogno Non come reale E ti metti a ridere E ti metti a ridere Ma che ti metti a ridere Ma che ti metti a ridere Hai detto Hai un clown Vabbè Sì fra Sì fra Sei un clown Porco dio Hai 40 anni Ma in queste cose Mi stai scherzando Ma stai Sì fra Sei un clown Addirittura Addirittura Sì Sì Dai allora Avvia la mappa Avvia la mappa E siamo tutti a posto Avvia il mondo Avvia il mondo Beh sicuramente non ha più uno dei miei Al pietralegno però Quel cazzo che è troppo Al pietralegno Al pietralegno niente Al pietralegno niente Che facciamo? Ah ha troppa paura Ha troppa paura Ma scusate Pietralegno Poi mi griffi Capase Piero oppure no Ma va che non è normale Non è normale Non so che non è normale Perché un ventenne che gioca Salve il mondo è normale Tu hai 40 anni Devi stare zitto Ma no no Ho 30 anni E c'ho 16 anni Quando devo truffare Bruffatori Ci riesco Capito? Ah Solo che peccato Che quitti Quindi che le prende le armi Una volta che hai rotto tutto Infatti Ma infatti Non so noi che le prende le armi Invito un mio amico Che si prende le armi E mi dà Una percentuale Delle armi Ah Tipo sono 100 armi Me ne dà 50 200 Me ne dà 50 Tu stai ammettendo Tu stai ammettendo Gli scam Che fai Ogni giorno Esatto Capisco Interessante Perché non ho paura Di niente nessuno Non hai paura Di niente nessuno Ma tu vai fiero Di fare queste cose Qui all'interno Della vita reale Perché Tu sei fiero Di fare queste cose All'interno del gioco Cosa? Ti completano Fare queste cose Nel gioco Ti rendono più 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 Non capisco E perché le fai? E perché Così Così Perché tu giocare normal Potresti essere in potenza 136 137 Ma tu non vuoi giocare Tu vuoi truffare Vuoi perdere tempo Allora Io A potenza Io le armi mitiche Non mi interessano Arrivare a potenza 9000 Come calo Si chiama 147 Non mi interessa Su sto gioco Io c'entro Una volta ogni 30 anni Quando devo truffare Qualche bm In borsa Sì O quando ci devo truffare Il truffatore Quando mi annoio Ecco Quando mi annoio Oggi mi annoiavo E sono entrato su salva Ah capisco Capito L'ultima volta che ti ho sentito Avevi detto Proprio Avevi detto davanti a tutti Che tu Cioè Tu trovai i truffatori E io dico Ma come? Cioè tu lo fai veramente? Eh Certo Certo Ma metto Figa Ma io adesso capisco Perché che problemi C'hanno le persone Che lo fanno C'hanno proprio I problemi I problemi I problemi Cioè Ma devono essere curate I problemi ce li hai tu nel cervello I problemi ce li hai tu nel cervello Ma mia Ma ti senti Ma ti senti Ma ti senti Ma stai scherzando Mi sento È come se mi sento Cioè Ti ho regalato un'arma E dici che me l'hai truffata Ma stai scherzando Non me l'hai regalata Non me l'hai regalata È truffata per sbaglio E io te lo presta Te l'ho detto anche Ecco Tieni il tuo Tua cosa Guarda Guarda Dai Truffami queste Vai Truffami tutte Eh non posso alimentare Fulte Fulte Eh Full di armi truffate Di tutte Infatti Guarda 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 Questa è truffata Questa è truffata Questa è truffata Questa senza elementi Senza perché è truffata Questa pure E cazzo che non vale bene nulla Tutte armi Vabbè Però se è vera Armi truffata Aspetta Guarda Questa è truffata Che è rarissimo Profuno Ma che cazzo dici Non esiste Non esiste Non è anche quello Visto Metti che ritornatura Vale 200 di raggio Eh dai 200 di raggio Che te lo scambio Tieni Non mi 200 di raggio Tieni Tieni Troppa Troppa Tieni Ok grazie Truffata Grazie 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 Ti ho preso 200 di raggio Non ci tengo a vedere la tua faccia Comunque con discord si duplica E chi glielo spiega E chi glielo spiega L'hanno facciato Lo so L'hanno facciato L'hanno facciato Non Non è Non è È già da un mesetto Che l'hanno facciato Sì Non ho È da forse una settimana Da un mese L'hanno facciato Ancora Che figlio Un mese Un mese Un mese Un mese Ma io sto aspettando Che mi spelleda Così almeno posso fare la clip Cioè Guarda La fate fare Cioè io già la sto facendo Quindi La sto facendo da quando Sono entrato nel gruppo Che Che Queen era entrata Sì Queen E Magari regina Magari regina sei La regina lì fa betta Tu Tu sei il re sui piselli Dai che devo andare Devo fare altro Ciao Dai Vai a fanculo Ciao